Sul tartan della pista Angelo Petrulli di Gravellona Toce con Riccardo Bagaini tornato da dei trionfali europei paralimpici di Berlino, due bronzi e un argento, direi non male. Esattamente, felicissimo per questa esperienza. Una staffetta, cos'è che sono? Raccontaci un po'. Questa è l'argento, staffetta 4% amputati. Questa bronzo, staffetta di ieri, no, altro ieri, staffetta universale, che non sto qui a spiegarla. Le varie categorie paralimpiche? Tutte le varie categorie paralimpiche, assemblate e siamo arrivati i terzi. E poi questa, che penso che sia quella che valga e pesa di più, che sono i 200 metri. Perché avevi sbagliato i 100 metri, quindi ti sei un pochino rifatto. Senti, dei grandi risultati, un grande sacrificio nello sport paralimpico che è assolutamente identico allo sport dei normodotati. Stesso allenamento, stessa fatica, stessa passione e stesso agonismo nel cercare il risultato. Esattamente. Come è difficile arrivare al risultato di là, lo dico espressamente, è difficile arrivare da noi. Io partivo come quinto nella ranking europea sui 200 e l'ho dovuta sudare, è una medaglia. Tu hai cominciato a fare atletica con Angelo Petrulli, che porti sul petto, con il GSH Sempione 82, poi ne parleremo. Adesso però il tuo obiettivo e non più sogno, Tokyo 2020, le paralimpiadi, direi che ci siamo, la strada è buona. Sì, diciamo che devi mettere passo dopo passo, la strada sta sempre diventando, non diciamo proprio più in salita, ma si sta già diventando pianeggiante. Naturalmente c'è molto lavoro da fare, perché ora non posso andarci alle paralimpiadi, ora come ora. Però c'è molto lavoro da fare, ma sono pronto a farlo, perché quello è davvero l'obiettivo. La tua categoria T47, amputati per la protesi al braccio, come potete vedere, i grazie che ci sono sempre in occasioni del genere. Esattamente, devo ringraziare in primis il mio allenatore, che mi ha seguito ormai da 3-4 anni, mi segue. Flavio Ranghino, ricordiamo. Flavio Ranghino, esattamente, una splendida persona, splendido allenatore. E il GSH Sempione 82, che comunque è la mia squadra del cuore, la squadra di Angelo. In suo onore sono riuscito ad arrivare a certi risultati, perché davvero è grazie a lui che ho iniziato a fare atletica. Allora ci rivedremo, chiaramente, prima, ma poi ci rivedremo tra due anni, chi lo sa. Speriamo davvero di sì.